Oh questo coglione mi ha rotto il cazzo! Oh! Non so, vuoi fare ancora qualche kill tu? Ti bevo vista E' arrivato Ti vede? Ma va con mongoloide, è andato a prendere l'U del suo amico e si E' ovvio, vabbè non facciamo le kill O vuoi girare, vuoi drappare al fabbrica? Sì anche le fabbrica, siamo in tempo, mi vado alla pagina No un tempo non ha fatto... No, il mio era boschetto un tempo eh, due le pescose Ah è già morto Cazzo questo è stranamente, si vede... si vede le skin Ma non c'è nessuno cazzo, molto male Sì, infatti vedi serve non essere troppo bassi per guardare Sì, a volte sì Ma c'è gente! Oh! Oh! Non c'è gente, ho solo una... Non c'è gente, ho un lato granato Ho fatto Grande Dove nemmeno un'arma cazzo, fu questo trovato, non ci credo Dai, hanno un pompa Tieni questo, tieni questo, tieni questo Che merce, vedi che... All'assalto vedo, che cazzo? Ah, non c'è nessuna cosa Ci facevano già qua Le cazzo Eh, la prima che si... Non male che aveva un'arma in mano, eh Morì guarda che se no io avevo un'arma in mano, non c'era la droga nella cazza Ma sì, c'era lui con la cazzo, io ho già quella doppietta e poi le ho preso anche dal naso la... il tattico Vinti Facciamo o la finiamola? Hai vinto? Ma non la facciamola, perché la vinciamo insomma Si chiama come allenamento, vediamo come sarebbe andato Sì, sì, infatti, infatti hai vinto raga Sì Ma comunque ecco, non ricordate che non sei morto Sì, sì, non hai fatto Come lo riesco? Non lo riesco Cazzo di male C'è ancora un sfido per crepare nel primo di cinque secondi Ho windowvitto per averle Voglio mettere una pressione prima qui due là che mi hanno perso, ma hanno pushato a morte Mentre me è andato solo che facevo tipo... Questa la squadra lo fa Questa la squadra... abbiamo vinto poi ho fatto una squadra più un'altra ho fatto 4 più 3 e più altri due quasi subito perché erano tutti lì, ci stavano erano 9 e basta quanti me dirai? ma qua c'è una carta eh ma se hai le armi non è che... e se non ti pusci, cioè se non è un team fortissimo che ti pusca che si può fare, se muore uno, poi si può salvare se tipo l'eccezione del team di Paolo, se muore lui non è che è finito, mi sembra l'altro che si sa giocare un po' come c'è la trattata? come c'è la trattata? come c'è la trattata? no, non c'è la trattata come c'è la trattata? come c'è la trattata? no, non c'è la trattata allora adesso non ricordo che ero sempre di farlo scherzo ma se non sono anche a giocare c'è un'altra posta ah, porto... ah, avevo il chan io ho due e uno su di... ma dove posso asciare lo su di qui? io ho un chan, lanci granate, pompa, un progliezzo dove è la posta? si, lì dentro quel contenere fa, va, va, va non c'è la trattata ma non c'è la trattata oh ma non c'è la trattata allora facciamo lo spin fino di m4 è blu eh? fino di m4 è blu si, ma io ho trovato... ho trovato il famos viola stavo dicendo, io ho capito come giocano loro e Paolo allora si mettono a giocare verso mezzanotte luna quando ci siano gli scarci e si fanno quelle tre partite dove sanno che vincono e si fanno tipo 8 punti a partita e si fanno tipo 20 punti in tre partite e beh, si fermano, io ho visto come giocava ieri ma fanno così non giocano, non giocano tipo adesso che c'è un posto a giocare giocano verso l'1 ho visto le due che fa le portare all'1 e beh che ad esempio questi hanno andato a passi vabbè questi, però ho visto che tipo ieri hanno giocato verso le 11 e mezzo e mezzanotte e c'era da niente scarsa, la niente cioè, due hanno perso infatti godevo perché hanno arrivato a 1020 punti 1020 e poi sono dei saliti e questo ricarice non so come cioè, non ha fatto un po' o quindi dame le partite grazie non lo so, come se ne erano tornati a 1059 e 1021 erano 24 e questo è il primo che si fa che balle e la stava godevo perché mi hanno perso contro uno che era tipo ventesimo, un team e poi l'hanno rifatta e hanno perso di nuovo contro quel team oh guarda la safe merda nooo io sono un chug eh, la safe è stra lontana ma lo facciamo guarda le bende no ho cotto le poze ci dobbiamo morire così che davvero? ma non ci muoio la sim ma non ci muoio la sim lasciami il chug ti lancio contro razzi guarda la stai, tieni lanciami certamente pochi è perfetto prendi le poze ho tre razzi solo l'hanno venito tutti in caso per fare i tentativi tieni da dove ti lancio? da qua, da qua ci stai lenti qua qua dritto la ti vedi la vai tieni i raggi ecco lì vai aiuto oh continua perché ti muovi saltando no ma saltavi e poi ti spostavi saltavi e ti spostavi eh no mi laghi perchè non mi arriva più saltare capito? sei sopravvissuto secondo me non ci muoio di caduta vero? non è che esplode le mezzate mamma ho fatto un sacco di danno a cadere te la faccio in 30 arrivato lì? non lo so vai togliere uno dai venti 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 aiuto venti a nove se vuoi che ci siamo raggiunti da lì però no te la faccio la faccio ci arrivo con sei di vita credo cinque se cosa sbagliate non so quando esplode non so il tempo dovrei contare i secondi e essere sicuro allora la vita ce l'ho all'oscuro però ti c'è roba ma c'era bene scusa quei quattro dobbiamo lasciarmi lì c'è una grazia la faccio si un'altra forza me la bevo adesso però perchè la slipper sta di 15 16 quindi fanculo sai che ti bevi adesso? facciare che non ha contato quanto mi stava durando la slipper forse avevo qua più tempo io ti aspetto qua no 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 come ci siamo salvati eh non ci eravamo in due ci eravamo uno solo dei due puoi essere da video capite? da me su youtube anche che ci cioghever si è cacciato no 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 si in due è impossibile non ci sapeva io eravamo si ci sta ci sta ci sta almeno penso ci sono già le testate di niente qua sto firmando ora non ho sentito sto è ancora due poze poi basta basta oh ma qua ci sono tre poze che le hai lasciate tu? si si una una no c'è una quello io quello io ho tre poze c'è gente qua? oh merda potente che se contro le squad e cento di miti eh non le contenere aiuto 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 se non le contenere ti sparo da grazie a caso boh prova ma c'è altra gente che le spara qua mi sei non vedo nessuno proprio eh no no proprio qua dentro qua dentro ah si si l'ho visto ha cominciato a bombare d'Arlo ci sono due ragazzi rimasti soli oh perfetto mi hai creato qua dentro perfettamente però qua dentro lì 44 di scudo cazzo poi se c'è gente anche qua aiuto ma c'è gente aiuto aspetta aspetta e ti strumenti con un mazzo che devi salire ce l'ho sopra ti faccio quando io non tagliare no non tagliare no oh mi continua a sparare con 100 uova io non so grande c'è salito grande teniamo il ground guarda mi sto curando quanti sono qua? guarda c'è qualcuno su dover che mi sparava mi ha tolto un sacco si si arrivano ok stanno arrivando infatti uno ho finito con la terra ah non giù la terra ce n'è uno qua è qua 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 ok lo vedo mi facevi la scala e l'ho ferita fatto 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 non ho cazzi non ho cazzi non ho cazzi mi servono mi servono cazzi ehi in safe in safe cazzo non ho vita l'hai lootata questo? ah si 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 è già lootata non ho niente non c'è mai altro da lootare cazzo cazzo ancora con me ce l'hanno dalla distanza incredibile cazzo ci sono già tra di due eh non ho fatto cadere non ho fatto un cazzo non ho fatto oh aspetta un attimo aspetta un attimo hai delle pende o no? no no c'è un po' uno da lootare il medikit lo vedo lo vedo il medikit te lo prendo te lo prendo stanno busciando no stanno busciando quindi qua qua c'è il medikit dove? ok dove? ma no ma come qua ma no no uno è cazzo una giornata attento eeeh fatti lo scuro dammi cazzo vabbè ce l'hai lo scuro ah è già due che questo aspettava a me non ne ho di scuri comunque ho visto i cazzo ho visto i cazzo questo aspettava a me due azioni non ho venda né niente io non ho materiale hai i materiali si si ho trovato la linea ho trovato eeeh 19 se no ok io ce l'hai qua fatti oh questa partita è buona se la vinciamo anche la carico perchè è bello oh ma te che l'hai fatto tu scusa io sono al giro fatto fatto che schifo è buona è sotto di noi è sotto di noi ah infatti l'ho sentito voglio avere continuo a correre qua in giro c'è mai degli angolini qua sfida ti asco è sotto ah è qua 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 bello bello sai che mi tolgo questo qua che tanto non mi ne prendo ah ce l'ho anch'io lui io la mitraglietta la trascendo perchè se avessi avuto il pompa di dovevo off moro io mhm se no c'è il tattico proprio qua no no ho fatto pompata di questo qua blu che mi traviesce no? io mi tiro a tenere blu un po' perchè fidati che tolgono sono ancora là su poi sono i tibes eh checkiamoli si 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 è là su ah è che qui è là 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 eh la provo che merda no no tu cresci eh shot ok ok eh il fammiamo c'è ma 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 c'è un po' in due o? si merda ce ne sono troppi hai in uno vai dai spari gli spari ho solo un cazzo rimasto uno non ha scudo eh uno che c'è andrà dietro due due fatti uno che ha fatto una volta la vita di te una vita 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 io l'ho fatto bastardo bastardo oh che laggata tu una bastardo l'ho dato che succede la vita hai l'ha messa di te hai fatto una volta che qui l'ha vista vieni qua vai li scudi ho due scudi ci siamo medici anche ah lo stavo mancando i soldati oh che due palle te ne lascio due te ne lascio due se non ci sono scudini dai un occhio ma se ne frega ma è tutto finito andiamo ma non ce n'è proprio ah qualche roba ah la so sono la so in tre si stiamo fuggendo noi credo si stiamo fuggendo noi vieni aspetta 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 eh aspetta 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 eh aspetta aspetta quanti pedane hai eh tre ne ho uno si si uno uno ce ne ho uno ce ne ho un altro non so tieni mi fa qua ci sono nabbi eh uno di aiciata ci sono nabbi non lo so guarda guarda perché sono in tre in una scala ma vai ci sono dei tati non ti credo si si dei tati non sono molti ma dei tati ci sta coprendo come le merda ah maledissima questo ah maledissima questo ah maledissima questo ah maledissima questo ha aperto la porta mi sento troppo davanti poverino è un tappo facile è un tappo facile eh sì che è così quando stiamo contro nei nabbi quando mi parlo contro i primi e per tirare via su c'è quanti punti in tiri via cazzo tipo 30 punti si ma poi voi l'avete quasi dite pure luca eh ah no cosa contro si contro loro si contro il loro si contro il destino eh ma si ma per due volte cioè eravamo pari di kill loro erano morti noi dovevamo solo ammazzarne uno solo per due volte loro erano mortito e non sono riuscito a finirlo due volte così l'avevo già ma te menti 3 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 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 8 11 12 11 12 14 11 14 14 14 15 15 16 14 quando li inizi sono qua sopra comunque, solo sopra, guarda sopra ed è poi c'è un nab comunque perché se ci vediamo fightare ci ammazzavano subito ah infatti, io sto sapendo si, ma sono qua, guarda se c'è un nab, ti viva, ti viva, ti viva è qua sotto, ah uno qua, guarda che nab ho questo è dissoluto, questo è dissoluto mia lasciamo l'ultimo, basta, ammazzali ah bello, l'ho scettato da qua col pompo andiamo, andiamo, palla palla quant'è chi d'hai? 13 19 abbiamo dominato la partita danni 2000 2007 precisione 40% 38 166 colpi, 18 airshot materiali usati 25 airshot, materiali usati 2000 1600 3000 3000 assistente subiti da danni subiti 530 366 eh, 20 e noi dopo essere 18 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 21 23 21 21 Autore dei sorrisi